Buonasera, grazie di essere qui. È una conferenza, un argomento molto interessante che ci riporta indietro di 200 anni nella Genova del 1822-1823, è una Genova anche degli inglesi perché alcuni protagonisti della cultura e letteratura romantica hanno soggiornato qui e lasciato tracce importanti, personali ma anche letterarie. Parliamo di Mary Shelley, di Byron e di Lee Hunt di Hunt, che forse al pubblico è meno noto, non so nemmeno quanto sia stato tradotto in Italia, probabilmente in lo tempore si tradusse anche a Lulla forse abbiamo qui Valentina Varinelli che è una delle maggiori esperte italiane su questo periodo, in particolare sugli Shelly a cui è dedicato studi, libri, un'edizione degli scritti italiani di Shelley e appunto è stata una co-curatrice o ha partecipato alla cura dei due meridiani di Shelley pubblicati qualche anno fa che trovate nella nostra biblioteca e anche in corso altre edizioni Shelly e Ianni proprio per l'edizione credo ufficiale o l'edizione che esce in Inghilterra, sì però oggi il Percy Shelley già non c'è più perché siamo nell'autunno del 22, nella primavera del 23 però a Genova c'è questo gruppo ubicato ad Albaro dove Valentina Varinelli spera di andare domani perché non l'ha mai vista, la Villa Saluzzo e Villa Negrotto-Casaretto rispettivamente dove stavano Byron e Mary Shelley è inventato questo gruppo e soprattutto gli Hunt, forse i personaggi, erano tutti pittoreschi gli Hunt non erano da meno perché erano una tribù con tanti bambini e così via e Mary Shelley doveva vivere con loro ed è sempre così doloroso pensare a questa giovanissima vedova poco più che ventenne che trascorre questo periodo drammatico ricordando il marito operito nelle onde del Mar Ligure pochi mesi prima e sempre vicina a Byron che non era nemmeno un personaggio facile da trattare e Mary Shelley se ben ricordo doveva copiare quanto Byron andava scrivendo e scrisse delle cose molto importanti a Genova Valentina Varinelli viene da noi dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, la sede di Brescia e come ho detto ha delle pubblicazioni molto innovative, pregevoli, delle ricerche originali alle spalle ma anche nel proseguo. Dunque benvenuta e aspettiamo di sentire qualche cosa su questo straordinario gruppo di personaggi che ricordiamo a 200 anni dal loro soggiorno. Perfetto, grazie, grazie mille professore. Sì, parleremo un pochino anche di Shelley, ecco, non lo facciamo morire subito però prima di arrivare a Genova e di parlare della breve e anche sfortunata avventura editoriale del Liberal appunto che si consuma tutta a Genova tra l'estate dell'autunno meglio del 1822 e l'estate del 1823 e appunto facciamo un passo indietro e ci spostiamo, non abbiate menea male, a Pisa. È lì che tra la fine del 1821 e i primi mesi del 1822 i due grandi amici e rivali Percy B. Shelley e Lord Byron decidono di fondare una rivista letteraria insieme a questo Lee Hunt anche lui poeta ma noto all'epoca soprattutto come giornalista e opinionista radicale una rivista per la quale tutti e tre si impegnano a fornire contributi originali. Il coinvolgimento di Byron era fondamentale per la buona riuscita del progetto. Anzitutto il suo nome rappresentava una garanzia in termini di vendite e nonostante Byron non godesse più del favore incondizionato di lettori e editori che si era guadagnato ormai quasi dieci anni prima con il successo senza precedenti di Child Herald's Pilgrimage le sue opere continuavano a suscitare l'interesse del pubblico. Byron restava il poeta più popolare dell'epoca non soltanto in Inghilterra. La fama di Byron si estendeva a tutta l'Europa fino alla Russia dove fu letto e imitato da Pushkin, Evgeny Anjegin e anche all'America. Shelley al contrario era sconosciuto ai più e in viso ai pochi che si erano dati la pena di leggere le sue poesie. Immorali, blasfeme e sediziose secondo una stroncatura di un paio di anni prima. E poi naturalmente Shelley e Hunt, che erano entrambi squattrinati, avevano bisogno del sostegno economico di Byron che di fatto si sobbarcò l'intero costo della rivista, la quale sarebbe stata pubblicata a Londra dal fratello di Hunt, John. La maggior parte dei contributi sarebbe invece stata scritta in Italia. Oddio non va avanti, la slide? Benissimo. Ok, ecco. Da qui dunque la dicitura, il sottotitolo che vedete qui, questo è il frontespizio del primo degli unici due volumi pubblicati di questa rivista. Il sottotitolo recita Verse and Prose from the South, poesie e prose dal sud. Byron risiedeva stabilmente in Italia dall'autunno del 1816, quando era arrivato a Venezia, passando per la Svizzera e poi per Milano, in fuga dallo scandalo che aveva accompagnato la sua separazione dalla moglie. Da Venezia Byron si era poi trasferito dapprima a Ravenna e successivamente nel novembre del 1821 a Pisa appunto. In entrambi i casi per amore di una giovane italiana, Teresa Gamba, moglie del conte Guiccioli, di cui Byron era diventato cavalier servente. A Pisa Byron affitta Palazzo Lanfranchi, che vedete qui sul lungarno, oggi ospita l'archivio di Stato, è quasi esattamente di rimpetto al palazzo dove abitano gli iscelli, che risiedevano a Pisa da più di un anno. Nei mesi successivi si riunisce intorno a questi due poeti un gruppo piuttosto eterogeneo di inglesi espatriati, i quali nutrivano, chi più chi meno, nutrivano tutte aspirazioni letterarie. Qui voglio ricordare almeno il cugino di Shelley, Thomas Medwin, che sarà il suo primo biografo, l'irlandese John Tuff, autore del primo convento a Dante in lingua inglese, che pubblicherà con l'aiuto di Byron, poi l'avventuriero Edward John Trelawney, di cui parleremo ancora, che accompagnerà Byron in Grecia, e successivamente pubblicherà una serie di memorie variamente romanzate del periodo che trascorse in compagnia di Shelley e Byron, e infine una coppia Edward e Jane Williams, importante perché a loro Shelley dedicherà alcune delle sue liriche più compiute. Oggi si fa riferimento a questo gruppo di amici esuli in Italia con il nome di Circolo Pisano. A Shelley però questa compagnia non basta. Da sempre nostalgico dell'Inghilterra vorrebbe accanto a sé, a Pisa, anche gli amici di più vecchia data, specialmente colui che considerava il suo migliore amico, ovvero Lee Hunt, a cui scrive per anni, invitandolo ripetutamente a raggiungerlo in Italia. Gli Shelley erano in Italia dal 1818, dal marzo 1818, e avevano attraversato la penisola in lungo e in largo prima di stabilirsi a Pisa. A Hunt mancano ogni volta i soldi necessari per pagarsi la traversata, ma di fronte alla prospettiva di una nuova promettente impresa editoriale con Byron, decide comunque di partire per l'Italia con tutta la numerosa famiglia, di cui parlava prima appunto il professor Baccigalupo. Oltre alla moglie di Hunt, Marianne, viaggiano insieme a lui anche i sei figli, di età compresa tra i dodici e i tre anni. Un settimo figlio nascerà in Italia e in totale ne avranno dieci. Sarà poi Byron a farsi carico anche di questa spesa per portare Hunt e tutta la sua famiglia in Italia. Hunt arriva dunque a Livorno il 15 giugno 1822, e da lì si reca a Pisa dove lo aspettano Byron che oltre a pagargli il viaggio si era inavvedutamente offerto di ospitarlo nel suo palazzo e Shelly. In realtà Shelly aveva da poco chiuso la casa di Pisa ed era andato in villeggiatura con la famiglia a San Terenzo nel Golfo della Spezia dove alloggiava a Villa Magni, che immagino una maggior parte di voi conoscerà, però ecco questo è come si presenta oggi. Shelly torna dunque a Pisa da solo per accogliere l'amico che non vedeva da più di quattro anni e possiamo solo immaginare la commozione con cui si riabbracciarono. Pare che Shelly fosse galvanizzato dalla compagnia ritrovata di Hunt, un'amica che viveva a Pisa e che l'aveva incontrato in quei giorni e avrebbe poi ricordato di non averlo mai visto così di buon umore. Shelly si trattiene qualche giorno per aiutare gli Hunt a installarsi anche perché Hunt parlava molto male l'italiano e perché capisce di dover fare già da pacere tra Hunt e Byron. Byron si rende subito conto di aver commesso un errore nel prendersi in casa la moglie di Hunt che disapprovava apertamente la sua relazione extraconiugale con Teresa Guiccioli e soprattutto i figli, che Byron descrive come più sporchi e più malefici degli Yahoo, le creature selvagge di Swift. Quello che non imbrattano lo distruggono con le loro dita. Non vi cito la risposta della moglie di Hunt, ma che senso ha essere un lord e avere tutti questi soldi? Vado a memoria se poi si sta a guardare, se dei bambini innocenti distruggono un po' degli affreschi antichi solo per giocare. Ma al di là di questi batti vecchi e incompatibilità caratteriali, quella del Liberal è un'impresa che comincia nella maniera più in fausta con la morte tragica di Shelley. Mentre fa ritorno a Lerici con la sua barca, la Don Juan, dal titolo del poema capolavoro di Byron, un nome che Shelley non aveva scelto, l'aveva scelto Byron per lui, Shelley fa naufragio e muore a largo di Viareggio l'8 luglio 1822, a poco meno di un mese dal suo trentesimo compleanno. Il corpo viene restituito dal mare dieci giorni dopo e sarà cremato, secondo le disposizioni dell'epoca, sulla spiaggia di Viareggio, su una fornace fatta costruire dall'amico Triloni alla foggia delle pire funerarie degli antichi greci. Il funerale di Shelley è il soggetto di questo celebre dipinto di Louis-Édouard Fournier, un dipinto postumo del 1889, oggi si trova alla Walker Art Gallery di Liverpool. Si tratta di una rappresentazione fortemente idealizzata, oltre che parecchio inaccurata, dell'evento. Intanto, dopo dieci giorni in mare, il cadavere di Shelley non si presentava così intatto, anzi era in avanzato stato di decomposizione, ma vi risparmio la descrizione estremamente dettagliata che ce ne ha lasciato Triloni, a cui fu chiesto di identificarlo. Le tre figure che troviamo qui in primo piano sono appunto, non so se vedete il cursore, non riuscite a vedere, la figura più sulla sinistra, col capo reclinato vestito tutto di nero, è appunto questo amico Triloni, e poi, ecco grazie, alle sue spalle, coi capelli bianchi, non si sa per quale motivo, è Hunt, e poi, leggermente in disparte, riconoscerete il profilo di Byron. Ecco, sappiamo però, dalle loro stesse testimonianze, che Hunt aveva atteso la fine della cerimonia, che era durata parecchie ore, in una carrozza, a distanza di sicurezza, mentre Byron si era sentito male, un po' per lo spettacolo, un po' per l'odore, che esalava dal cadavere che bruciava, e dunque, per non farsi vedere, si era gettato in acqua, e aveva raggiunto a nuoto la sua goletta, la boliva, che era ancorata davanti alla spiaggia. Byron era un nuotatore provetto, come molti di voi sapranno. Sullo sfondo, vediamo anche una donna inginocchiata, proprio lungo il margine, un po' nell'ombra. Presumibilmente si tratta della vedova del poeta, Mary Shelley. Tuttavia, le leggi del tempo vietavano alle donne di assistere alle cremazioni, per cui in realtà Mary Shelley rimase a casa. Mary Shelley aveva 25 anni, quando restò vedova, e un bambino di tre, Percy Florence, Percy come il padre, Florence come la città dove era nato, quindi Firenze. Solo un mese prima della morte di Shelley, la stessa Mary Shelley era sopravvissuta a un pericoloso aborto spontaneo, nella casa che vi ho mostrato prima, casa Magni. Quanto alle ceneri del poeta, come molti di voi sapranno, furono portate a Roma, al cimitero cattolico del Testaccio, dove riposano tuttora all'ombra della piramide Cestia. Pochi passi dalla tomba di un altro poeta romantico inglese, morto in Italia, in giovane età. Mi riferisco naturalmente a John Keats, che morì di tubercolosi a Roma, nel febbraio 1821. Con la morte di Shelley, il circolo pisano, inizia ben presto a disgregarsi. Mentre gli altri membri del gruppo, prendono ognuno strade diverse, Mary Shelley, Byron, con Teresa Guiccioli, e Hunt, si trasferiscono a Genova. Potremmo quindi parlare di un circolo genovese, a questo punto. Ora è Mary Shelley a dover dividere la casa con Hunt e famiglia, questo per poter risparmiare sull'affitto. E questa è la casa che affittano Mary Shelley e gli Hunt ad Albaro, Villa Negrotto, dove appunto qui si vede una targa in memoria di Mary Shelley, ma ne parlavamo prima, pare sia stata rimossa. Domani, prima di prendere il treno, andrò a verificare. E anche Byron affitta un palazzo ad Albaro a poca distanza, Villa Saluzzo, appunto a poca distanza dagli amici. Nell'immaginario vittoriano, Genova resterà legata a Byron, benché la sua permanenza qui sia più breve di quelle a Venezia o a Ravenna. Quando Dickens arriverà a Genova nel 1844, all'inizio del suo soggiorno italiano, cercherà senza successo di affittare proprio il palazzo che era stato di Byron ad Albaro, in un misto di desiderio di affermazione sociale e volontà di inserirsi in una precisa tradizione di viaggiatori inglesi in Italia. A Genova, adesso che Shelley non c'è più, tocca alla sua vedova, Mary Shelley, il compito non facile di mediare tra Hunt e Byron, che erano troppo diversi per carattere, abitudine e soprattutto educazione per poter andare d'accordo. Mary Shelley finisce così col prendere il posto del marito nel progetto del Liberal e quindi qui vi ho voluto così mostrare i tre veri protagonisti di questa avventura e al centro ho messo proprio Mary Shelley così tra i due fuochi. Questo ritratto di Mary Shelley di Richard Rothwell che è il ritratto che è possibile o meglio era possibile vedere alla National Portrait Gallery prima che chiudesse per restauro è un ritratto più tardo è del 1840 e raffigura quindi Mary Shelley come una donna ormai di mezza età una donna vittoriana. A sinistra vedete invece il ritratto di Byron del pittore americano William Edward West che è conservato alla Scottish National Portrait Gallery di Edimburgo in omaggio alle origini scozzesi di Byron che aveva trascorso l'infanzia da Burdeen e questo non è né il più celebre né il più fedele ritratto di Byron a detta della Guiccioli era più simile a una caricatura e pare che neanche a Byron piacesse l'ho scelto comunque perché è stato realizzato a Pisa alla fine di giugno del 1822 quindi è esattamente contemporaneo alle vicende di cui stiamo parlando oggi oltre ad essere l'ultimo ritratto in vita del poeta nello stesso periodo West aveva realizzato anche questo probabile ritratto di Hunt che vedete sulla destra e dico probabile perché lo stesso artista più tardi cercò di spacciarlo per un ritratto di Shelley per ovvie ragioni di prestigio ma non ci sono fonti a sostegno della sua versione sappiamo invece che Hunt posò per West appena arrivato a Pisa e purtroppo capita ancora che venga scambiato per un ritratto di Shelley e qualcuno sorride purtroppo è successo anche alla Mondadori infatti i due meridiani che ha citato prima il professor Bacigalupo il secondo dei due meridiani di Shelley che è il volume delle prose riporta proprio il ritratto di Hunt sul cofanetto ovviamente se avessero consultato il curatore l'errore si sarebbe potuto evitare ma pazienza Shelley voleva molto bene a Hunt lo stimava anche come poeta quindi non credo se la sarebbe presa però ecco se poi vi voleste vedere quei due volumi sappiate che il ritratto sul secondo volume non è Shelley è Hunt e comunque il soggiorno ad Albaro coincide senza ombra di dubbio con il periodo più difficile della vita di Mary Shelley che pure dal suo arrivo in Italia oltre quattro anni prima aveva dovuto affrontare la perdita di due figli prima Clara morta a Venezia all'età di un anno e mezzo e poi William che di anni ne aveva tre ed era morto di malaria a Roma a nemmeno un anno di distanza dalla sorellina nella sua residenza genovese Mary Shelley inizia ora un lungo processo di elaborazione del lutto per la morte del marito processo in cui è centrale il lavoro sulle carte postume di Shelley Mary Shelley comincia subito a raccogliere queste carte a riordinarle a trascriverle in bella copia in vista della pubblicazione il compito che doveva affrontare era più arduo di quanto si possa pensare Shelley aveva lasciato le sue carte in uno stato di assoluta confusione di difficile decifrazione non solo perché non aveva previsto di morire ma anche a causa delle sue abitudini di lavoro Shelley era solito scrivere all'aperto e nell'ultimo periodo specialmente in barca dove portava con sé dei fogli sciolti che raramente si dava la pena di numerare e dove scriveva a matita che si deteriora molto in fretta insomma non si preoccupava certo degli studiosi del ventunesimo secolo neanche quando utilizzava dei taccuini in realtà Shelley era più ordinato aveva infatti l'abitudine di annotare versi destinati a poesie diverse gli uni dopo gli altri dove trovava spazio senza separare un componimento dall'altro e spesso poi aggiungeva dei ghirigori dei disegni con cui teneva impegnata la penna per così dire in attesa dell'ispirazione ecco vi mostro un esempio per darvi un'idea anche di quello che Mary Shelley si è trovata davanti questo è uno dei fogli che contengono la prima stesura dell'ultimo poema incompiuto di Shelley dal titolo tragicamente ironico The triumph of life il trionfo della vita è un componimento ambizioso in terza rima terza rima inglese che si rifà sia ai trionfi di Petrarca sia soprattutto alla commedia dantesca e che Shelley iniziò a San Terenzo nella primavera del 1822 e morì prima di poter concludere ecco vedete che due terzi circa del foglio della pagina sono occupati da dei versi sono quelli scritti con l'inchiostro che ora risulta più scuro versi che presentano numerose correzioni quindi si tratta sicuramente di una prima stesura mentre nella parte bassa della pagina vedete che troviamo un altro gruppo di versi scritti con un inchiostro diverso e capovolti rispetto agli altri questi versi sono un'altra poesia un frammento che sappiamo Shelley ha composto prima dei versi sopra in una pausa durante la stesura del suo poema maggiore e quindi ha iniziato insomma preso questo foglio pulito per scrivere questo digetto proprio questo frammento che gli era venuto in mente mentre lavorava al suo al suo poema poi però siccome rimaneva molto spazio cosa ha fatto nel momento in cui è tornato al suo poema ha ripreso lo stesso foglio l'ha capovolto e ha proseguito con la composizione poi probabilmente in questa fase ha fatto anche i disegnini che vedete nel margine che suggeriscono il contesto marittimo in cui si trovava nonché la sua passione per le barche e poi in basso forse vedete proprio nel margine inferiore della pagina che ha scritto più volte una parola in italiano a leggerla sembrerebbe ricetti forse si tratta di un cognome non lo sappiamo ma è comunque assolutamente estranea a entrambe le poesie su questa pagina ecco questo foglio così come la maggior parte delle carte manoscritte e dei quaderni di lavoro di Shelley è conservato presso la Bodine Library di Oxford e dall'inizio di quest'anno l'intera collezione è fruibile online in versione digitale a integrazione delle due edizioni critiche attualmente in corso sulle due sponde dell'Atlantico delle poesie complete di Shelley che si auspica porteranno a termine il processo di stabilizzazione dei testi scelleiani avviato da Mary Shelley ormai due secoli fa come dicevo parallelamente al suo lavoro pioneristico sugli scritti postumi di Shelley Mary Shelley si ritrova a suo malgrado ad assumere un ruolo di responsabilità nella rivista ideata dal marito sottolineo questo punto perché quando si parla del liberal la figura di Mary Shelley rimane invariabilmente in secondo piano l'unico studio peraltro assai esaustivo del liberal che è del 1960 è intitolato Byron Shelley Hunt and the Liberal e l'autore William Marshall parla di Shelley quasi come se fosse ancora vivo laddove Shelley contribuì soltanto all'idea iniziale della rivista ma non fece in tempo a parteciparvi in maniera concreta a sostituirlo a tutti gli effetti fu Mary Shelley che non solo dovette intervenire ripetutamente ad appianare le tensioni tra Hunt e Byron ma entro a far parte di quello che potremmo definire il comitato editoriale del liberal a fianco di Hunt e Byron il suo lavoro sulle carte di Shelley si interseca così con quello per la rivista infatti Mary Shelley seleziona tre opere postume di Shelley da includere nel liberal che usciranno ciascuna su uno dei primi tre fascicoli in totale furono pubblicati quattro fascicoli con cadenza trimestrale il primo uscì nell'ottobre del 1822 e contiene la traduzione di Shelley della scena della Valpurgisnacht dal Faust di Goethe che Shelley intitola Mayday Night Shelley era un fine traduttore di poesia e di prosa e nel corso della sua carriera tradusse una quantità e una varietà straordinaria di opere da sei lingue diverse greco latino francese italiano spagnolo e tedesco si va da Omero e Platone a Virgilio da Dante all'inno della Marsigliese e da Calderon a Goethe appunto sul secondo fascicolo del Libra che esce a gennaio del 1823 troviamo invece una delle ultime liriche di Shelley oggi nota con il titolo di The Indian Girls Song canto della fanciulla indiana che pare fosse stata composta su una melodia indiana che l'amica Jane Williams che aveva vissuto in India era solita suonare alla chitarra e alla Bodleana Oxford è conservata anche la chitarra che pare Shelley avesse regalato a questa amica ma forse si tratta di un falso non lo sappiamo infine sul terzo fascicolo del Liberal apparso ad aprile Mary Shelley pubblica un breve componimento due strofe di Shelley intitolato Lines to a Critic versi a un critico che era stato scritto alcuni anni prima in risposta alla stroncatura che ho citato all'inizio e che adesso è corredato da una nota di Hunt in cui Hunt invita i critici che avevano recensito il Liberal a leggerlo le recensioni che ricevette il Liberal fuono tutte estremamente negative anche se si trattava più che altro di attacchi personali nei confronti degli autori specialmente Hunt e Byron i critici furono comunque unanimi nel prevedere che il Liberal sarebbe stato una meteora e quindi sul Liberal appaiono le prime opere postume di Shelley e già questo sarebbe sufficiente a garantire a questa pubblicazione così effimera una posizione di rilievo nel canone della letteratura romantica inglese il fatto poi che quei componimenti siano stati rivisti per la pubblicazione da Mary Shelley dà ad essi alla rivista stessa un valore aggiunto il Liberal diventa infatti il banco di prova per il lavoro di edizione delle poesie e delle prose di Shelley a cui Mary Shelley dedicherà i successivi 25 anni della sua vita e che culminerà nella prima edizione completa delle opere di Shelley poesie, prose ma anche lettere in sei volumi nel 1839 questa edizione che poi fu ulteriormente rivista e migliorata da Mary Shelley è a tutt'oggi un punto di riferimento imprescindibile per la critica testuale sceleiana per molti test incluso il trionfo della vita che vedete qui la lezione accettata è ancora quella stabilita da Mary Shelley naturalmente Mary Shelley conosceva la scrittura del marito e le sue abitudini compositive meglio di chiunque altro inoltre le edizioni di Mary Shelley ebbero un ruolo fondamentale nella costruzione della fama postuma di Shelley ne permisero la riscoperta da parte della generazione successiva quella dei poeti vittoriani come Robert Browning e Elizabeth Barrett che si formarono sulla poesia di Shelley e degli altri romantici il quarto e ultimo fascicolo del Libera uscito nel luglio 1823 non contiene nessun inedito di Shelley ma è arricchito da un contributo della stessa Mary Shelley che collabora alla rivista anche come scrittrice non solo come curatrice sul Libera sono pubblicate tre opere di Mary Shelley un racconto ambientato a Firenze all'epoca delle lotte tra Guelfi e Ghibellini che è incluso nel secondo fascicolo una breve biografia della contessa di Hood To la musa di Rousseau nel terzo fascicolo e infine nell'ultimo fascicolo un saggio biografico sullo storico fiorentino Giovanni Villani ecco cito questi tre testi perché vi possono dare un'idea della varietà di genere in cui Mary Shelley che è nota soprattutto come romanziera come l'autrice di Frankenstein si cimentò nella sua carriera il saggio su Villani e il racconto si possono però considerare come dei sottoprodotti delle ricerche che Mary Shelley aveva condotto in Italia a Pisa per il suo romanzo storico Valperga che è il suo secondo romanzo che aveva appunto da poco terminato ed è ambientato tra Lucca e Firenze all'inizio del quattordicesimo secolo che peraltro è un romanzo che se non conoscete vi consiglio l'edizione italiana a cura di Lilla Crisafulli e Kear Elam è stata da poco ristampata negli Oscar Mondadori grazie a un'iniziativa dell'associazione Amiche e Amici di Mary Shelley che ha sede alle Erici oltre ai contributi degli Shelley le opere di maggior rilievo apparse sul Liberal sono naturalmente a firma di Byron nel 1822 Byron era ormai ai ferri corti con il suo editore il potente John Murray che era stato anche l'editore di Walter Scott e di Jane Austen perciò Byron gli chiede di cedere i manoscritti in suo possesso manoscritti che gli aveva precedentemente inviato a John Hunt perché siano pubblicati sul Liberal tra questi c'era il manoscritto di The Vision of Judgment la visione del giudizio che apre il primo fascicolo della rivista si tratta di un poema satirico in ottava rima una forma di cui Byron è maestro in inglese e dove Byron immagina il momento del giudizio in cielo dell'anima del re Giorgio III che era morto nel 1820 come potete immaginare questa poesia fu il principale oggetto delle stroncature apparse sui giornali e tutti i quattro i fascicoli del Liberal si aprono con un'opera maggiore di Byron sono testi che Byron aveva già scritto e che da tempo in alcuni casi anche da alcuni anni aspettavano di trovare una destinazione Byron scrisse comunque anche dei nuovi componimenti appositamente per il Liberal pur essendo ancora impegnato in questo periodo a Genova nella sesura del suo poema il Don Juan anch'esso rimasto incompiuto ad aprire i quattro fascicoli del Liberal abbiamo quindi nell'ordine oltre alla visione del giudizio Heaven and Earth un dramma di ispirazione biblica The Blues una satira sessista non c'è altro modo per definirla nei confronti delle donne intellettuali e delle scrittrici insomma che a Byron Byron era molto molto critico nei loro confronti nonostante poi quando si trattava di scrittrici che conosceva come Mary Shelley sapesse riconoscere il merito Byron stimava molto Mary Shelley infatti le affidava addirittura la realizzazione delle belle copie del suo poema del Don Juan e infine nell'ultimo fascicolo troviamo la traduzione fatta da Byron sempre in ottave del primo canto del Morgante di Luigi Pulci seguita dal testo italiano ecco qui vedete la la prima pagina questa non è l'unica traduzione di Byron contenuta nel liberal dove più in generale le traduzioni sono piuttosto numerose 18 su un totale di 58 contributi tra tutti e quattro i fascicoli quindi circa un terzo della rivista sono traduzioni abbiamo già detto della versione di Shelley Dalfaust di Goethe nel primo fascicolo nello stesso fascicolo sono pubblicate anche tre traduzioni di Hunt tutte e tre dall'italiano anni prima Hunt aveva realizzato una versione della minta di Tasso che era stata lodata da Shelley ora Hunt traduce per il liberal l'episodio tratto da Ariosto di Cloridano Medoro e Angelica si intitola proprio così ovvero parte del diciottesimo e del diciannovesimo canto dell'Orlando Furioso le altre traduzioni di Hunt nel primo fascicolo sono invece da Poliziano e da Alfieri a queste si aggiungono ulteriori traduzioni sia di Hunt sia di Byron nei tre fascicoli successivi oltre al Morgante Byron contribuisce una traduzione di un epigramma di Marziale mentre le traduzioni di Hunt sono di nuovo soprattutto da Alfieri epigrammi ma anche da Casti Sophie Dutto e La Fontaine altre traduzioni poi sono inserite di soppiatto diciamo da Hunt nascoste all'interno di suoi contributi originali il caso più eclatante è quello di un componimento che si intitola The Book of Beginnings letteralmente il libro degli inizi che è una poesia in cui Hunt riflette sulle difficoltà e le diverse strategie adottate dai poeti di epoche diverse per iniziare le loro opere all'interno della poesia sono citate in originale e seguite da traduzione le strofe incipitarie di alcuni dei poemi più celebri della letteratura italiana di cui avrete ormai capito che Hunt era un estimatore qui vi ho messo a modo esempio la prima strofa dell'Orlando Furioso che è la strofa centrale in questa pagina appunto citata all'interno della poesia e seguita da una traduzione originale di Hunt in ottava rima che vi leggo ladies and cavaliers and loves and dams and courtesies and haughty deeds I sing what time the moors of Africa in swarms ecco qui ad esempio questo swarms alla fine del terzo verso dovrebbe rimare con arms e alarms al primo e al quinto verso ma è una rima apparente perché la pronuncia è diversa la presenza di un numero così alto di traduzioni dà una nuova accezione al titolo della rivista verse and prose from the south dove il sud non fa più riferimento soltanto all'area geografica in cui si trovano a vivere gli autori sono le opere stesse proposte dalla rivista a provenire dal sud e ad essere espressione del sud il liberal si presenta dichiaratamente ai suoi lettori cioè al pubblico inglese come uno strumento di mediazione culturale tra il sud dell'Europa in particolare l'Italia e un nord che coincide sostanzialmente con l'Inghilterra questo ruolo di mediazione culturale assunto dalla rivista ha però anche una connotazione politica come capiamo se dal sottotitolo passiamo ad analizzare il titolo the liberal di cui ancora non ho parlato l'aggettivo liberal che corrisponde all'italiano liberale è usato qui nel suo significato politico che però a differenza di oggi non era corrente nel 1822 anzi sembra proprio che la rivista di Shelley Byron e Hunt abbia contribuito alla diffusione di questa all'epoca nuova accezione del termine quelli che noi oggi chiameremmo liberali all'epoca si definivano radicali il titolo è una dichiarazione di sostegno e vicinanza ai moti libertari che avevano attraversato l'Europa mediterranea nei primi anni venti dell'ottocento investendo un'ampia parte degli stati italiani e a favore dei quali sia Byron sia Shelley si erano espressi ripetutamente nella loro poesia pare proprio che sia stato Byron a scegliere il nome della rivista non a caso nel giro di un anno Byron sarebbe partito alla volta della Grecia per dare un contributo concreto alla lotta per l'indipendenza dai turchi ma già a Ravenna nel 1821 Byron aveva dimostrato di saper passare dalle parole ai fatti offrendo protezione e aiuto ai carbonari locali tra cui il padre e i fratelli di Teresa Guiccioli che infatti furono poi banditi dagli stati della chiesa e pare che Byron nascondesse le armi dei carbonari nella cantina del suo palazzo a Ravenna che poi non era il suo palazzo era il palazzo del marito di Teresa Guiccioli dove stava anche lui aveva una stanza un'ala del palazzo riservata tornando al liberal i pezzi inclusi nel primo fascicolo sono tutti di Hunt Byron o Shelley in linea con l'intenzione originaria dei tre fondatori di essere anche gli unici autori di questa rivista tuttavia già dal fascicolo successivo nonostante Byron e Mary Shelley continuino a fornire nuovi contributi Hunt si rende conto che è necessario trovare altri collaboratori per riuscire a uscire con regolarità ciò implica però tradire la promessa del sottotitolo infatti i nuovi autori reclutati da Hunt si trovano in Inghilterra non al sud la maggior parte delle opere che appaiono sul liberal sono pubblicate in forma anonima quindi è solo grazie allo studio della corrispondenza di Hunt Mary Shelley e Byron che è stato possibile risalire all'identità di questi altri autori che erano tutti amici di Hunt o di Shelley Charles Brown Paula Smith Thomas Jefferson Hogg tra questi spicca il nome di William Hazlitt critico letterario critico d'arte che è considerato uno dei più grandi saggisti nella storia della letteratura inglese Hazlitt contribuisce una serie di pezzi tra cui uno dei suoi saggi più celebri My First Acquaintance with Poets la mia prima conoscenza con i poeti in cui Hazlitt ricorda il suo primo folgorante incontro con Samuel Terrell Coleridge e quello non meno decisivo con William Wordsworth a differenza dei fondatori del liberal Hazlitt e gli altri collaboratori esterni per così dire dovevano essere pagati per i loro contributi questo portò a un aumento dei costi di produzione che ben presto si rivelò insostenibile anche perché contro le previsioni di Hunt le vendite non bastavano a pareggiare il bilancio Byron e Shelly avevano deciso fin dall'inizio di lasciare tutto il ricavato del liberal a Hunt che versava in grosse difficoltà economiche ma già dal secondo fascicolo si andò in perdita e ciò portò alla decisione di interrompere la pubblicazione della rivista nell'estate del 1823 anche con l'entrata in gioco di nuovi collaboratori dall'inghilterra Hunt rimase il primo autore del liberal è sua infatti la maggioranza la stragrande maggioranza dei contributi che appaiono in ciascun fascicolo vi ho già detto delle sue numerose traduzioni per concludere vi voglio parlare di una serie di scritti originali di Hunt che sono tra i pezzi apparsi sul liberal più interessanti da leggere oggi mi riferisco alle sue quattro lettere dall'estero letters from abroad uscita una su ogni fascicolo prese insieme queste quattro lettere costituiscono il diario di viaggio di Hunt che era arrivato in Italia per la prima volta per lanciare la rivista e vi sarebbe restato per tre anni fino al 1825 le lettere di Hunt presentano tutte le caratteristiche e gli stereotipi della letteratura del viaggio in Italia vi leggo alcuni estratti dalla seconda lettera quella dedicata a Genova che è la prima città italiana che Hunt ha occasione di vedere e la nave su cui viaggiava aveva fatto una sosta nel porto di Genova prima di arrivare a destinazione a Livorno dunque la lettera si apre così Genova è davvero Genova la superba è dal mare che se ne coglie l'aspetto migliore ed è dal mare che la ammirai per la prima volta immaginatevi un glorioso anfiteatro di case bianche circondate e sormontate dalle montagne in basso vi è la città con le sue chiese e le sue navi le altre abitazioni sono ville che si affacciano lungo tutto il fianco della collina a sinistra svettano le alpi con le loro cime innevate a destra e sullo sfondo si ergono gli appennini Hunt è particolarmente colpito dalle dimensioni anguste delle vie di Genova anche quelle più eleganti questa è la descrizione della strada nuova l'odierna via Garibaldi e della strada oggi via Balbi queste vie sono letteralmente una successione di palazzi su entrambi i lati palazzi dalle ricche architetture adornate al loro interno dalle opere dei maestri italiani il marmo è usato ovunque a profusione sono strade che sembrano costruite da Aladino per stupire il sultano suo suocero tuttavia hanno un limite deplorevole anche queste strade sono strette la metafora teatrale Genova come un anfiteatro causata all'inizio della lettera è ripresa nella descrizione di una processione religiosa che accoglie Hunt al suo ingresso in città o meglio lo costringe a fermarsi perché la via è ovviamente troppo stretta per passare avevo appena messo piede a Genova quando mi imbattei in una processione religiosa erano state portate fuori delle sedie e un elegante compagnia era seduta lungo entrambi i lati della strada come in una sala da musica il lettore deve immaginarsi una strada stretta con il pubblico disposto come detto e una corsia lasciata libera per il passaggio dello spettacolo come ha sottolineato forse per primo Mario Prats in una delle sue cronache letterarie anglosassoni la visione dell'Italia come teatro come una messa in scena di cui il viaggiatore ma potremmo anche dire il turista è uno spettatore passivo si ritrova in numerosissime testimonianze dell'epoca per farvi un esempio Dickens che ho già citato prima paragona le scene cui assiste mentre passeggia per le vie di Genova a una fantasmagoria ovvero propriamente a uno spettacolo di lanterne magiche una forma di intrattenimento molto popolare nell'Inghilterra vittoriana altrettanto comune nei resoconti dei viaggiatori inglesi in Italia è il pregiudizio anticattolico per cui il cattolicesimo è una pericolosa superstizione e infatti Hunt conclude così il suo racconto della processione a cui si trova costretto ad assistere è impossibile non pensare al paganesimo di fronte a spettacoli del genere come Giove Capitolino è tuttora venerato a Roma con il nuovo nome di San Pietro così non vi è dubbio che gli antichi avessero processioni identiche a questa chiamate in maniera diversa perciò Hunt davvero italofilo invita i lettori che volessero ritrovare lo spirito autentico della religione cattolica a leggere la poesia di Dante come vi ho detto l'impresa del liberal si conclude con la pubblicazione del quarto fascicolo nell'estate del 1823 fallita la rivista non c'è più nulla a trattenere Byron in Italia che quindi si imbarca per la Grecia dove morirà l'anno successivo a Missolungi il 19 aprile 1824 diventando un eroe nazionale per i greci anche se non morì in battaglia ma a causa di una febbre reumatica Byron salpa da Genova il 15 luglio 1823 dieci giorni dopo il 25 luglio anche Mary Shelley lascia l'Italia e fa ritorno in Inghilterra per dare al figlio un'educazione all'altezza del suo nome e del titolo che gli spetta cioè il titolo di Baronetto che suo padre Percy B. Shelley non aveva fatto in tempo a ereditare e che quindi alla morte del nonno Sir Timothy passerà a Percy Florence di quello che possiamo chiamare il circolo genovese rimane solo Hunt che però dopo poco tempo si trasferisce in Toscana dove aveva scoperto che la vita era meno cara a noi rimane invece il Liberal a testimonianza di un momento unico di collaborazione letteraria che è in parte anche una collaborazione postuma tra tanti protagonisti del movimento romantico inglese e unico soprattutto perché vede una donna Mary Shelley in una posizione di assoluta parità rispetto ai suoi colleghi uomini e io concludo qui e vi ringrazio molto per per l'attenzione lasciamo l'antica policesimo grazie di questo bellissimo panorama che un po' ci ha ricordato il background cosa sta dietro a questo momento e poi questi approfondimenti invece che ci hanno detto tante cose che non sapevamo e ci hanno invitato a riflettere su questa straordinaria impresa pensare a questi questi tre o quattro geni che pubblicano questi numeri di una rivista in ognuno dei quali ci sono delle opere che anche ancora leggiamo se non le abbiamo lette leggeremo per cui veramente è un contributo molto molto stimolante e ci sono tante domande che vengono naturalmente in mente e sentiamo la prima però devi parlare col microfono devo chiedere due cose dove era stampato il liberal in Italia no no era stampato a Londra e come il sistema con cui inviavano non c'era internet no? allora perché molti allora tutti la maggior parte dei contributi di Byron quindi tutte quelle opere che Byron aveva già scritto e che erano lì in attesa da Murray perché Murray non si decideva a pubblicarle insomma o non andava bene insomma come proponeva di pubblicarle a Byron Byron aveva scritto abbiamo le lettere in cui Byron scrive al suo editore dicendogli di dare i manoscritti a John Hunt che era il fratello di Hunt che era responsabile di mettere insieme la rivista fisicamente stamparla e pubblicarla perché era pubblicata in Inghilterra per cui poi ci sono anche degli episodi per cui ad esempio questa Vision of Judgment esce senza la prefazione di Byron e Byron a lungo crede che sia stato Murray apposta a non darla a John Hunt perché senza la la prefazione sembrava diciamo sembrava ancora un attacco ancora più forte di quello che era ecco e quindi in realtà poi pare che l'amico che faceva da tramite che doveva fisicamente portare il manoscritto da un ufficio all'altro avesse perso quei fogli insomma non avevano ben capito anche loro in Italia ovviamente non sapevano addirittura in alcuni casi non sapevano cosa sarebbe stato contenuto in ciascun fascicolo appunto perché diciamo una redazione era a Genova e poi tutta la parte editoriale era a Londra per cui ad esempio a partire dal secondo fascicolo quando Hunt inizia a mandare lettere agli amici ovviamente lettere che impiegavano settimane per andare dall'Italia all'Inghilterra ci volevano di solito se viaggiavano via terra un paio di settimane però se erano spedite magari con qualcos'altro nei bauli come spesso facevano per risparmiare sui costi di spedizione via mare ci potevano impiegare anche mesi e quindi appunto quando Hunt inizia a scrivere agli amici e chiedere se sono interessati se hanno qualcosa da contribuire e questi rispondono affermativamente allora poi lui dà istruzioni che mandino i loro pezzi a suo fratello che poi sarà sostituito dal nipote però anche Hunt non sa effettivamente cosa del suo fratello deciderà di includere e questo ha reso ancora più difficile capire effettivamente chi ha scritto cosa delle opere minori che sono nel liberal per cui perché abbiamo delle lettere in cui viene detto ah sì questa questa persona ha deciso ha accettato di contribuire un saggio però poi il saggio non c'è e quindi ci sono state insomma attribuzioni sbagliate è stato un lavoro molto complesso quello che non ho fatto io è stato fatto negli anni di capire poi chi chi non avesse effettivamente mantenuto la promessa e chi invece avesse contribuito perché combinazioni contemporaneamente a Genova si stampava una rivista in francese di astronomia in un'altra villa di un barone ungheresi il barone Fonsac che era una sorta di cavalieri servente della bisnonna del futuro principe Alberto no ed è curioso queste due esperienze sempre di aria libera diciamo così mentre poi la città invece era totalmente reazionaria nelle sue aspetti e dove anche c'erano esuli reazionari da Napoli quindi era una situazione molto pittoresca della nostra città allora sì no ma poi è interessante perché qualche anno dopo un editore con cui anche Scelli aveva stampato a Pisa aveva partecipato all'edizione alla creazione di una rivista che si chiamava The Osonian all'Ausonio quindi l'italiano che era una rivista stampata in Italia in inglese rivolta agli inglesi che vivevano in Toscana ed è interessante come appunto ci insomma a me piace pensare che si siano un po' ispirati al Liberal però perché appunto alcuni dei protagonisti di quest'altra impresa avevano frequentato gli Scelli a Pisa infatti forse mi sono emigrato di dire che Valentina Varinelli sta lavorando a un'edizione critica del Libero se non sbaglio per cui nelle fasi iniziali ecco nelle fasi iniziali però tanto sorprende che si sia aspettato il 2023 per fare un'edizione critica di una cosa così straordinaria e appunto l'inizio anche della fortuna postuma di Scelli su cui sarebbe interessante interrogarsi perché come ci ha ricordato Byron era già il poeta uno dei grandi poeti fra virgolette inglesi sarebbe interessante proprio chiedersi qual è il momento cronologico in cui Scelli diventa senza dubbio anche lui uno dei grandissimi questo non era però ancora avvenuto questo fatto però dopo però proprio a vedere per cui insomma interessante anche questa questione della fortuna in particolare di Scelli perché ovviamente è un grandissimo ma l'altra questione è la diffusione stessa del Liberal come mai si poteva fare una rivista chi la leggeva e cosa pensavano i lettori quando vedevano questo titolo The Liberal che era appunto ancora non era una parola così dall'accezione del tutto chiara questo lei ha fatto uno studio comincia a studiare questa questione della diffusione delle recensioni il nome di Byron insomma veniva non c'era il nome di Byron scritto proprio nella rivista però si sapeva si sapeva perfettamente che Byron era coinvolto infatti le recensioni accusano Byron o meglio si prendono gioco di Byron e dicono come Byron quando era a Cambridge quando studiava all'università siccome le regole di Cambridge vietavano agli studenti di portarsi un animale domestico il cane diciamo negli alloggi universitari allora Byron per protesta si era portato all'università a stare con lui un orso adesso che si parla anche tanto di orsi e c'era una recensione che dice era meglio quando Byron si teneva come animale da compagnia un orso adesso invece c'è Hunt Hunt era ovviamente di tutt'altra estrazione sociale era l'esponente di questa scuola di poesia che era stata ribattezzata Cockney School Cockney è il dialetto della working class il dialetto popolare di East London e quindi appunto si diceva come è possibile che Byron guardate dove è arrivata la corruzione di Byron a stare in Italia che adesso si sta con con questa gentaglia appunto Hunt e i critici non avevano interpretato correttamente il titolo della rivista la maggior parte delle recensioni lascia capire che avevano inteso liberal nel senso diciamo di senso tradizionale che forse ancora il senso primario quantomeno in inglese quindi relativo alle arti come lo diciamo oggi nel senso nelle arti liberali quindi liberal come espressione di un certo tipo di educazione aristocratica era inteso proprio come un aggettivo relativo esclusivamente a Byron che era appunto l'aristocratico del gruppo ci sono altre domande volevo chiedere se dal liberal si può sapere qualcosa di più sulla formazione filellena di Byron che proprio avviene a Genova Byron disprezzava i greci e si era espresso liberamente e poi c'è l'incontro con Shelley a Pisa che lo fa cambiare opinione e mi incuriosisce molto il contributo che poteva avere Mary Shelley anche dopo la morte di Shelley che fa cambiare radicalmente l'atteggiamento di Byron se lei prendeva lezioni di greco moderno a Pisa dai profighi di Mavrocordatos e poi credo adesso a memoria l'ultimo suo romanzo non so se l'ultimo Last Man che è ambientato in Grecia molto contraddittorio e particolare mi chiedo se si può sapere di più il signore prima ha detto ho parlato di Genova città reazionaria io direi che è una città piena di contraddizioni io ho spogliato di quegli anni la gazzetta la gazzetta di Genova ovviamente il commercio è prima di tutto e non bisogna irritare gli ottomani però c'è la pubblicazione dei proclami rivoluzionari dei greci che penso facevano inoridire Metternich e tutti i sovrani perciò c'è questa cosa per me ancora molto difficile da leggere mi chiedevo appunto se si sa qualcosa di più da liberare è una bella domanda e non ho una risposta al momento ma sicuramente vedrò di investigare questo aspetto perché è ben probabile che Mary Shelley che condivideva l'entusiasmo di Shelley per la Grecia anche se poi loro non ci sono mai stati potesse avere così in conversazione trasmesso la sua posizione le sue idee a Byron e vedere insomma come nella stampa genovese c'è un silenzio sulla presenza di Byron a Genova non c'è nessuno si registra l'arrivo di sì 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 non di Byron ma sa anche se nei documenti della polizia in archivio perché a Pisa e nell'archivio di stato di Pisa ci sono le carte appunto della polizia pisana dove appunto si legge se non ricordo esattamente com'era la la formulazione però insomma dicevano si scrivevano le varie autorità dicendo è arrivato Byron teniamolo d'occhio erano proprio molto era molto presente insomma nei documenti ufficiali nei dispacci della polizia della prefettura insomma quello che era sì poco 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 però vedrò di approfondire questo aspetto magari ci sono e non le ho viste grazie no era solo una curiosità a margine di quello che lei diceva sulle recensioni che sono state fatte al libro ha avuto qualche c'è stata qualche reazione da parte di letterati italiani vicini magari nell'immediato o magari un po' più avanti letterati che conoscevano questi autori inglesi che magari avevano ecco qualche effetto che questa rivista ha avuto anche per il nome su per esempio su certi ambiti della cultura italiana questo non glielo so dire a parte appunto quella pubblicazione anche quella di che ha avuto vita breve questo The Osonian ha pubblicato era pubblicato da Rosini a Pisa che era amico di Leopardi ecco per il resto non glielo so dire in Inghilterra ci sono state diverse risposte parodiche c'è un illiberal più o meno contemporaneo the London liberal ne esistono pochissimi esemplari nelle biblioteche erano appunto delle parodie di questa di questa impresa di questa rivista e in Italia non lo so ma anche questo sicuramente vale la pena ad essere approfondito grazie sì dunque fortuna e sfortuna perché da una parte non si sanno gli autori non sono non si dichiarano è difficile oggi perfino ricostruire gli autori a parte questi celeberimi division of judgment e così via però d'altra parte invece se appunto si sapeva che era Byron che era uno scrittore di successo si potrebbe anche chiedere come mai però questa rivista poi non ha quella diffusione forse perché era anche molto politica per cui non si rivolgeva al pubblico che leggeva il Byron romantico il Byron viaggiatore ma sostanzialmente perché c'era di mezzo Hunt e Hunt non piaceva perché era Hunter era stato messo in prigione per poi sono un succès del scandale potrebbe essere cioè proprio perché però non lo leggevano nemmeno più o meno tutte le imprese di Hunt nemmeno The Blues lo leggevano nemmeno The Blues le opere maggiori di Byron erano riconosciute erano note poi ci sono anche tutta una serie di ad esempio le traduzioni e lì l'autore spesso i recensori pensavano che fosse sempre Hunt laddove era Byron bene se non ci sono altre domande possiamo solo ringraziare Valentina Varinelli di averci regalato queste informazioni stimolanti e affascinanti invece portato nel mondo di Byron e Shelly e soprattutto di Mary Shelly complimenti e auguri per il suo lavoro grazie grazie a voi vi ricordo che giovedì ci sarà una conferenza dell'accademico credo Davide Pettis forse dell'Università di Genova magnetismo ed energia un approccio sostenibile che però non parlerà di Frankenstein grazie arrivederci magari può farmela può farmela separatamente allora sentiamo un momento c'è una domanda da casa volete ascoltare sentiamo la domanda di Riccardo eccolo lì salve mi sentite? sì ciao salve a tutti grazie di questo di questo evento io sono un francesista appassionato più che un cultore della materia però mi è molto mi è molto piaciuto l'intervento della professoressa Varinelli il modo giudizioso anche in cui ha ripercorso anche le tappe editoriali e materiali della rivista The Liberal io ho cercato di fare i compiti a casa prima di questa bellissima conferenza perché mi ero molto incuriosito agli scritti di Mariscelli su Giovanni Villani allora mi era perso di capire leggendo un po' di bibliografia secondaria che Schelli avrebbe apprezzato in Villani anche un certo modo di narrare le anime di Dante di avvicinarci alle anime di Dante alla loro dimensione quotidiana cioè quasi come se fosse un narratore non uno storico e allora mi era venuta in mente una riflessione su Mariscelli critico o critica letteraria o analista della letteratura o storica letteraria e mi faceva piacere ascoltare qualcosa di più su questo saggio di Villani capire un po' che cosa Schelli davvero ci aveva trovato in Villani e magari se ci sono nei suoi scritti delle come dire delle deduzioni teoriche che si possono fare e che possono essere interessanti non soltanto per la letteratura inglese ma in generale per quel periodo storico è la letteratura trasnazionale del XIX secolo quindi volevo un po' parlare di questo mi è venuta anche così la scintilla ascoltando appunto il titolo il sottotitolo dell'edizione della prima edizione questa idea che ci sia un verse and prose from the south come se diciamo così ante l'iteram ci fosse una riflessione sulla world literature o come se ci fosse l'idea di una forse di una european literature ecco questo tipo di riflessione di ordine teorico mi interessano molto credo possono interessare molto anche altri comparatisti diciamo studiosi di letterature di quel periodo grazie mille grazie a te riccardo per come al solito la domanda molto profonda articolata qui non sarà facile rispondere allora anzitutto per quanto riguarda Giovanni Villani Meriscelli appunto per scrivere questo suo romanzo storico aveva fatto un grande lavoro di ricerca proprio sulle fonti storiografiche è un lavoro che non avrebbe potuto fare in Inghilterra che era possibile solo in Italia infatti dedica gran parte del suo soggiorno in Italia a raccogliere documenti legge il muratore legge il romanzo è ispirato alla vita di Castruccio Castracani che era appunto questo tiranno di Lucca Ghibellino che pare sia stato un modello per il principe di Machiavelli e di cui Machiavelli ha scritto una biografia che appunto Meriscelli legge studia tra le sue fonti e in questo suo lavoro Meriscelli segue l'esempio del padre di Godwin che insomma era stato celebre alla fine del diciottesimo secolo per un testo political justice giustizia politica che è considerato il testo fondativo dell'anarchismo filosofico era appunto alla fine degli anni diciamo nel periodo immediatamente dopo la rivoluzione francese Godwin era uno dei grandi nomi della all'interno del circolo degli intellettuali radicali londinesi era un punto di riferimento con la sua filosofia per i poeti della generazione romantica più vecchia quindi Coleridge Wordsworth e poi era un po' finito nel dimenticatoio e si era dedicato alla scrittura di romanzi ma anche biografie e Mary Shelley segue molto Godwin sia nell'approccio nella ricerca alla base dei suoi scritti sia nella concezione della biografia per cui ecco per questo Riccardo se sei interessato ti inviterei a andare a scoprire un po' le biografie di Godwin e quello che Godwin aveva da dire appunto sulla biografia come genere che è un po' il modello di Mary Shelley è un po' quello che Mary Shelley cerca di ricreare nelle sue biografie Mary Shelley ha scritto tante biografie tanti saggi biografici che sostanzialmente la sua posizione era quella di vedere la biografia come qualcosa di diverso dalla storiografia per cui non era necessario un distacco ma era possibile appunto il coinvolgimento dell'autore della biografia nelle vicende appunto del proprio soggetto e per quanto riguarda invece l'altra parte della tua domanda relativa insomma all'elemento trasnazionale del liberal sì sicuramente l'altro aspetto se non l'aspetto di maggiore interesse del liberal oggi è il fatto che sia espressione della non soltanto di una politica liberale di questi autori ma anche di una poetica transnazionale che poi ovviamente le due cose sono collegate questi sono tutti poeti che sarebbero stati d'accordo con il concetto di velta letteratura di Goethe che è di poco successivo ma anche con Madame de Stael e tutti avevano letto Madame de Stael gli scelli avevano letto Madame de Stael Byron era amico di Madame de Stael lei stessa appunto aveva teorizzato l'importanza dello scambio tra culture tra letterature attraverso la traduzione era proprio quello che aveva invitato nel famoso saggio aveva invitato gli italiani a fare a tradurre dalle letterature del nord d'Europa dalla letteratura delle letterature contemporanee non più soltanto dai classici sicuramente gli scelli in varie opere esprimono una posizione in linea con questa quindi l'idea leggendo soprattutto gli scritti teorici di Scelli la difesa della poesia questo saggio straordinario di Scelli emerge proprio una concezione della letteratura come letteratura sovranazionale o europea sostanzialmente nella difesa della poesia Scelli anticipa il concetto di tradizione di T.S. Eliot quindi c'è proprio questa visione della letteratura non come letteratura nazionale in un'epoca in cui le letterature diventano sempre più nazionali quindi sicuramente il liberal rappresenta anche questo grazie non so se ho risposto grazie grazie Valentina eccezionale come sempre grazie siamo d'accordo e salutiamo di nuovo Valentina i tutti presenti posso intervenire io? no posso intervenire? no vediamo tempo ancora per una domanda sì per favore fate intervenire la professoressa Sanguinetti oh grazie ma mi sentite? sì non mi sentite? ai ai vorrei parlare sì quando ci ricapita fatela intervenire per favore ha spento il microfono ah ma l'ho attivato perché non sentite? sì sì sentiamo sentiamo ah sentite allora come posso fare io a ringraziare per questa bellissima conferenza e vorrei aggiungere alcune cose se mi è possibile delle cose molto più meno specifiche ma tante volte noi ci siamo occupati di Mary Shelley a Genova a cominciare dal professor Bacigalupo non so se l'ha detto lui prima perché io sono intervenuta qualche minuto dopo l'inizio l'ha detto il professore che è andato lui con la sua macchina fotografica a scoprire la villa Negrotto dove c'era Mary Shelley in Albaro non ce l'ha detto ve l'aveva detto? no ah non ve l'ha detto non ce l'aveva detto ecco allora Mary Shelley è abitato appunto un anno lì in questa villa Negrotto che non si sapeva dove fosse che era vicino a quella dove stava Byron che ha una lapide che è come una parete e allora è cominciata la ricerca di questa villa e il professor Bacigalupo è andato e l'ha trovata dopo che l'ha trovata siamo intervenute come associazione amiche amici di Mary Shelley e la società delle letterate con Silvia Neonato siamo andati in comune e gli abbiamo detto che insomma almeno una targhetta lì bisognava metterla e l'abbiamo fatta scolpire e è stata messa con una bella cerimonia a cui hanno partecipato tanti amatori ma non i proprietari della villa che temevano che questo fatto facesse aumentare le tasse sulla medesima villa così che poi a distanza di qualche mese hanno rimosso la lapide e con un coraggio veramente strepitoso perché la lapide faceva capo al comune e sarebbe stata necessaria una denuncia che poi non ci siamo sentiti di fare l'hanno sbattuta in un angolo del giardino che può vedere qualcuno soltanto passando per una via laterale questa volevo raccontare questa piccola storia e poi vedo che ci sta sentendo lì la Maria Crisa Fulli che è una grande grandissima studiosa di tutte queste cose con la quale avevamo iniziato un approccio a Libra traducendo la prefazione che che aveva che lei aveva poi pubblicato sulla sua rivista di studi romantici ecco basta ho finito però ancora una cosa vorrei dire che risulta dai diari dalle lettere di Mary Shelley che lei dall'alto della collina di Albaro ha visto l'esondazione del fiume Bisagno del 1823 che era stata catastrofica con case portate via e morti come poi si è ripetuto anni recentemente a Genova ringrazio tutti grazie grazie a lei grazie a lei grazie anche ai nostri ospiti in collegamento e a tutti e buona serata e ci vediamo forse giovedì per questa prossima conferenza mandateci il link mandateci il link sarà poi metteremo tutto online così si potrà vedere rivedere la conferenza di Valentina Varinelli buonasera grazie Valentina grazie infinita grazie grazie a lei grazie a lei grazie a lei